Rapporto ormai incrinato quello tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie. Dopo aver chiuso la loro storia con la possibilità di vedersi alla fine del grande fratello Vip 6, la situazione sembra essere peggiorata. Da un lato, il nuotatore vuole riprendersi i suoi spazi nella casa. Dall'altro, la princess che vorrebbe più rapporto anche se la loro relazione è finita. Il risultato è una grande incomprensione. Sfociata in uno scontro che ha spinto Manuel ad allontanare Lulu bruscamente. Dopo la discussione, Manuel si è sfogato anche in confessionale, andando a parlare con gli autori riguardo la troppo insistenza della maggiore delle Selassie. Poi, tornando in stanza con Aldo Montano per riposare un po', il nuotatore gli ha raccontato come anche gli autori del grande fratello Vip si sarebbero presi gioco della princess. Queste le sue parole degli autori. Lulu non ti è addosso, ti è solo vicino. Dopo la battuta avrebbero riso allegramente, prendendo per i fondelli Lulu. Questo è quello raccontato da Manuel. E allora! Ehi risolio!